Per ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge incrociamo più di 5 rifiuti, oltre 10 ogni metro. Per lo più sono plastica, un frammento ad ogni passo, ma ad invadere i nostri litorali c'è di tutto, oggetti di ogni forma, materiale, dimensione e colore. Una mola incredibile che rappresenta soltanto la punta di un iceberg a fotografare il fenomeno e l'indagine beach litter di Lega Ambiente realizzata per il settimo anno consecutivo. A Taranto i volontari di Lega Ambiente hanno raccolto e analizzato i rifiuti presenti sulla spiaggia di Lido Bruno, 878 rifiuti per quasi 100 metri lineari di spiaggia. Il 76% dei rifiuti trovati è rappresentato dalla plastica, con 665 rifiuti totali. Ai primi posti dei rifiuti più trovati ci sono infatti pezzi di plastica e polistirolo, ma anche tappi e coperchi di bevande. Non manca l'usegetta di plastica, che se disperso nell'ambiente rappresenta uno dei principali nemici del nostro mare. Con bicchieri, cannucce e bottiglie di plastica. La cattiva gestione dei rifiuti urbani, dichiara Lunetta Franco, presidente di Lega Ambiente Taranto, si conferma la causa principale della presenza dei rifiuti sulle spiagge italiane, assieme alla carenza dei sistemi depurativi e alla cattiva abitudine di buttare i rifiuti urbani nel WC, conclude la presidente di Lega Ambiente. In particolare, i cotton fioc sono il simbolo per eccellenza di mala depurazione e della cattiva abitudine di buttarli nel water. Da ricordare che in Italia, anche grazie alla denuncia di Lega Ambiente, sono stati messi al bando dal 1 gennaio 2019, in favore di alternative biodegradabili e compostabili. La presenza rilevante di bicchieri, bottiglie e contenitori di plastica per bevande dimostra inoltre la necessità di lavorare per ridurre drasticamente questo tipo di rifiuto, anche con campagne che incrementino la fiducia dei consumatori nei confronti dell'acqua del rubinetto. L'Italia, infatti, è il primo paese in Europa e il terzo al mondo per il consumo di acqua imbottigliata, nonostante la qualità e la sicurezza dell'acqua pubblica.